Direttore, anche l'ospedale di Sassuolo si tinge da arancione, raccontiamo perché c'è questa iniziativa a livello nazionale. L'ospedale di Sassuolo ha voluto insieme a altre aziende sanitarie della provincia di Modena, l'azienda ospedaliera, universitaria e l'azienda USL, aderire alla giornata della sicurezza delle cure e delle persone assistite. Tra l'altro è la giornata italiana ma coincide anche con la giornata mondiale, con la cosiddetta World Safety Day Patient e quindi è in concomitanza con questo tipo di iniziativa che quest'anno l'ospedale ha voluto tinerci di arancione ma semplicemente per richiamare l'attenzione da parte degli utenti sul discorso della sicurezza delle cure. La sicurezza delle cure è sicuramente una parte costitutiva di un'erogazione di una prestazione di alta specialità e che necessariamente vede impegnati tutte le strutture sanitarie a mitigare quelli che sono gli eventi avversi che possono capitare nell'erogazione delle prestazioni, che ovviamente da loro sono ineliminabili però con l'adozione di una serie di misure tra le quali il discorso soprattutto in particolare di un'analisi e valutazione dei rischi che possono accadere, quindi l'adozione di buone pratiche cliniche e questo consente di mitigare quelli che sono i rischi che derivano dalle cure che lavoriamo nei confronti dei nostri pazienti. In particolare quest'anno ci si concentra sul percorso nascita e se si parla di nascite il sassuolo è una struttura fondamentale per il bacino che serve che comprende anche la parte reggiana. Certo, come giustamente dice lei quest'anno poi l'argomento perché viene fissato ogni anno sono cure materne e neonatali sicure e ovviamente la nostra struttura è dotata di un reparto materno infantile importante quest'anno poi anche uno slogan agisce adesso per un parto sicuro e rispettoso per cui ovviamente sembrava anche che calzasse in modo particolare anche quest'anno per la valenza che ha questo ospedale che sappiamo è uno degli elementi per il quale garantiamo una sicurezza è anche di essere in rete con l'azienda ospedaliera e in particolarmente con il materno infantile perché è dotata di un hub con un sistema hub e spoke per cui noi centralizziamo i piccoli pazienti o le maglie che hanno parti complessi. Si sta anche allargando, sta crescendo da questo punto di vista l'ospedale di Sassuolo? Sì, stiamo dando particolarmente risalto proprio al discorso della nostra neurotologia di secondo livello che si deve raccordare poi con la terapia intensiva neonatale del poliglinico. Proprio la capacità di poter trattare questi piccoli pazienti che possono avere delle problematiche ci ha consentito nell'ambito di un'organizzazione a rete di centralizzare, ossia di trasferire alla terapia intensiva neonatale un numero molto ridotto, anche garantito dal sistema STEN che è il sistema di trasporto che l'azienda ospedaliera garantisce per trasportare o le parti complicati o comunque i neonati che hanno necessario bisogno di una terapia intensiva neonatale. Devo dire che l'illuminazione, ne approfitto anche per ringraziare l'azienda Sartini Impianti perché tra l'altro è un'azienda leader della nostra provincia e che ha recentemente contribuito per l'illuminazione del Colosseo e anche del recente Festival di Venezia.